ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video dedicato ai regali di natale che ho fatto ad amici e parenti una piccola premessa voi vedrete questo video dopo natale ma sappiate che io lo sto registrando prima di natale il motivo per cui non lo metto subito sul canale perché se qualcuno dei miei amici o parenti capita su questo video avrà uno spoiler clamoroso sul suo regalo di natale quindi preferisco pubblicarlo dopo detto questo mettetevi comodi perché ho fatto veramente un sacco di regali ad amici parenti conoscenti quindi ci sono un sacco di cose che voglio farvi vedere partiamo subito così non mi perdo in chiacchiere a un'amica dei miei genitori ho fatto un piccolo tagliere quindi una cosa un po simbolica a forma di pupazzo di neve vi faccio vedere la forma qui così magari lo vedete meglio ha una piccola spatolina in legno e due torroncini uno alle mandorle e uno alla fragola questa è la classica confezione natalizia che è solo un pensiero però insomma mi sembrava una cosa comunque carina da presentare per i miei genitori invece ho pensato un regalo diverso dal solito ho preso un cofanetto wonder box questo si intitola un dolce risveglio e comprende una notte per due persone in hotel bed and breakfast residence insomma avranno 1310 possibilità di scelta sparsa in tutta italia la validità è di due anni quindi avranno anche molto tempo per scegliere dove andare e mi sembrava un regalo carino un po diverso dalle solite cose poi oltre a quello che è il regalo ufficiale ho pensato di aggiungere una piccola cosa ciascuno che è proprio una cosa simbolica per mio papà ho preso un bagno doccia di bottega verde terre speziate con estratto di zenzero questi lui li usa moltissimo quindi insomma sicuramente è gradito poi per mia mamma ho preso una maschera per capelli ultra dolce di garnier di queste io mi trovo molto bene con queste maschere in particolare questa olio di avocado burro di karité per capelli ricci o mossi e ha un effetto di nutrimento intenso disciplinante per lasciare i capelli morbidi e setosi quindi credo che potrà apprezzare per mia nonna invece ho pensato ad un regalo un pochino più affettivo diciamo così le ho preso una cornice con scritto super nonna ti voglio bene eccola qua questa è la cornice dentro andrò a mettere una fotografia nostra quindi una fotografia mia e del mio compagno oppure una foto che ho fatto io con lei insomma la foto ancora non l'ho scelta però mi piaceva l'idea della cornice con questa scritta è sicuramente un regalo un pochino più affettivo non è una cosa utile però insomma per mia nonna che ha superato ormai 90 anni penso che una cosa del genere possa essere molto più gradita di tante cose pratiche che poi non le servono poi per un'amica farò una cosa semplicissima e simbolica questa scatola di tè è una scatola di latta è molto carina ha questi disegni l'avevo presa da lidl sono quelle della marca deluxe che aveva appunto tutte queste scatole con il tè dentro ed erano molto carine tutte per mio suocero ho preso un ombrello quindi ve lo faccio vedere chiuso e non aperto qui sembra nero perché mi rendo conto che con le luci sembra nero ma in realtà è un grigio scuro fumè è molto carino è antivento al manico di legno ed è una cosa che gli serviva per mia cugina ho scelto una carta regalo di Yamamai la confezione è sempre molto carina rossa con la scritta del negozio le campanelle le stelline quindi insomma la classica confezione natalizia e ho scelto la carta regalo lì perché nelle vetrine ho visto un sacco di cose molto belle poi ovviamente la durata della tessera va avanti nel tempo quindi anche se non prenderà niente adesso al limite prenderà qualcosa più avanti poi a lei aggiungerò dei piccoli regalini così tanto per fare qualche pacchetto in più una penna questa qui che è molto bella ce l'ho anch'io è lilla col fiocchetto questo pomo così soffice quindi una penna che insomma un po particolare un po estrosa ma è carina poi ho deciso di prenderle anche una cosa che ho visto sul canale di Anna Maria lei aveva fatto un video in cui ha fatto vedere i suoi acquisti fatti su notino e ho visto questo profumo con questo packaging meraviglioso questo è un gatto al cuoricino appeso così qui praticamente voi togliete il tappo e spruzzate il profumo io l'ho preso solo ed esclusivamente per il packaging perché il profumo sappiamo che è una cosa molto personale può piacere e può non piacere però io quando glielo regalerò farò presente che l'ho preso più per il packaging che per il profumo che c'è all'interno poi ovviamente io spero che le piaccia anche il profumo perché tanto meglio però è comunque una cosa carina da tenere lì sulla mensola del bagno o della camera insomma è una cosa che mi sembrava particolare questa è la confezione invece esterna la scatola questo regalo è proprio in linea con quel video che avevo fatto un po di tempo fa in collaborazione con the colors of youtube in cui parlavamo del packaging quando il packaging ti colpisce questo è stato proprio uno di quei casi poi vi faccio vedere l'ultimo regalo per mia cugina così poi passiamo agli altri ho preso da bottega verde questa piccola confezione di balsamo labbra qui quella linea diciamo in edizione limitata stupore della neve emozione dei sogni e questo in particolare l'ho preso perché loro vanno spesso sulla neve vanno spesso in montagna quindi sicuramente il balsamo labbra è una di quelle cose che possono essere utili poi era carina anche la confezione adesso vi faccio vedere due cose delle quali io non mi intendo affatto perché si tratta di due bottiglie di liquore questa è per mio cognato una bottiglia di limoncello poi invece per il compagno della zia del mio compagno scusate il gioco di parole ho preso questo liquore al cioccolato è una cosa che io personalmente non avevo mai visto magari chi si intende di liquori di vini di alcolici in generale ne sa più di me sicuramente quindi magari una cosa straconosciuta però per quanto mi riguarda non l'avevo proprio mai vista neanche sugli scaffali quindi ho pensato di prendere questo mi sembrava più originale poi per mio cugino e sua moglie ho pensato di prendere questo libro 101 viaggi straordinari da fare almeno una volta nella vita questo è un regalo che sicuramente per loro può essere indicato perché viaggiano spesso viaggiano tanto quindi magari sono quelle piccole idee per andare a vedere dei posti nuovi che possono sempre essere gradite e poi invece per mia zia sempre sui generi ho preso 101 cose da fare a genova almeno una volta nella vita lei è una persona che esce tantissimo è praticamente sempre fuori casa quindi ho pensato che questo poteva essere un libro ironico da una parte ma dall'altra anche un libro che può dare delle idee di cose nuove da vedere nella nostra città che magari non si sono mai viste perché non c'è mai stata l'occasione quindi mi sembrava anche questo un libro che può essere utile e dare qualche spunto poi per mia suocera ho preso una caffettiera da tre tazze che è stato un regalo richiesto perché mi hanno detto che le serviva questa caffettiera adesso ve la faccio vedere perché è un po' particolare la caffettiera è questa come vedete è molto carina perché ha la parte di sotto nera la parte di sopra argentata ma la particolarità è che ha il manico e il beccuccio sopra fatto di un materiale che non si riscalda quindi questo vuol dire che quando voi dovete prendere la caffettiera o controllare se il caffè sta venendo su anziché ustionarvi le mani potete tranquillamente toccare la caffettiera è una cosa un po' innovativa diciamo così un po' diversa dalle classiche caffettiere quindi ho pensato di acquistarla con questa particolare caratteristica poi per il mio compagno ho preso due maglioni e devo dire che quest'anno abbiamo fatto una cosa diversa dal solito niente effetto sorpresa e abbiamo comprato i nostri regali in presenza nel senso che eravamo presenti semplicemente perché abbiamo pensato a cose utili lui ha visto due maglioni che gli piacevano e io gliel'ho comprati per natale ve li faccio vedere uno è questo che è a collo alto è fatto così un po' lavorato davanti ed è un maglione abbastanza pesante ha questo color rosso mattone e poi un maglione un po' diverso dal solito un po' particolare è questo che ha righe fatto così tutto colorato e non ha il collo alto questa volta al girocollo anche questo è di lana abbastanza pesante però gli stava veramente bene inoltre le righe orizzontali lui se le può tranquillamente permettere perché è alto e magro quindi comunque non vanno poi ad allargare sapete che le righe orizzontali non vanno bene su tutte le tipologie di fisico perché tendono ad allargare però nel suo caso non abbiamo questo problema quindi gli stava davvero bene è un maglione questo che mi è piaciuto subito perché è un po' colorato un po' diverso dal solito quindi mi sembrava originale poi per il mio compagno ho preso anche un'altra cosina che però è ironica è scherzosa questa volta sarà una sorpresa perché l'ho comprato senza che lui lo sapesse ma è proprio una cosa scherzosa è uno schiaccianoci fatto in questo modo quelli che hanno il guscio protettivo dovete sapere che ogni sera mangiando le noci con lo schiaccianoci classico volano gusci ovunque quindi ci ritroviamo il pavimento pieno di gusci allora ho pensato che con questa tipologia di schiaccianoci che comunque rimane chiuso forse potremmo un pochino ovviare a questo problema però è un regalo ovviamente ironico scherzoso insomma siccome siamo vicini a natale lo volevo comprare anziché metterlo direttamente in cucina lo mettiamo sotto l'albero e glielo faccio aprire come regalo diciamo un pochino più misterioso però è ovvio che è uno scherzo però è anche utile perché comunque poi ci serve questo questo schiaccianoci fatto in questo modo poi per la nonna del mio compagno ho preso una classica confezione di caffè ci sono due tipologie di caffè illy nella scatola di latta è una bella confezione sicuramente adatta per la nonna del mio compagno un piccolo pensiero però insomma se beve il caffè è anche utile poi per l'altra mia zia ho deciso di prendere un'agenda è un'agenda nera con tutti i fiori il nome sopra quindi è molto personalizzata ed è fatta in questo modo è settimanale e ha praticamente tre giorni della settimana da una parte e tre giorni dall'altra è carina perché ha gli obiettivi della settimana le priorità della settimana poi qua cosa c'è le cose da fare quindi è una cosa abbastanza carina soprattutto per una persona che ancora lavora che va in ufficio e quindi magari può essere utile poi ho pensato di aggiungere una cosa che mi è piaciuta molto è un calendario da scrivania 365 giorni felici un pensiero felice per ogni giorno sono proprio quei calendari che hanno per tutte le giornate dell'anno un pensiero positivo un pensiero felice una citazione insomma quelli un po fatti così che secondo me può essere carino perché si mette in questo modo sulla scrivania quindi lei quando arriverà in ufficio magari mi penserà perché ogni giorno ci sarà una frase del calendario che le ho regalato io lo so ragazzi sono un'inguaribile romantica io perché ogni volta che faccio un regalo a qualcuno penso che poi magari penserà a me quando avrà questo regalo tra le mani magari qualcuno lo fa davvero qualcuno non lo fa però insomma le mie intenzioni sono sempre tutte positive dolci e affettuose poi per mio nipote invece ho preso due libri di gianni rodari uno l'ha preso mia mamma in realtà quindi uno è da parte sua uno è da parte mia però ce li ho tutte e due io quindi ve li faccio vedere uno è questo 100 storie e filastrocche e 100 illustratori eccolo qua questo è molto carino ha delle illustrazioni dentro che sono molto belle e sono proprio 100 storie 100 filastrocche e poi invece ho preso le più belle storie di natale mi piaceva perché c'è questo questa copertina così con l'albero di natale questo ha delle storielle natalizie ci sono molte meno illustrazioni però insomma mi sembrava un bel libro mi è piaciuto quindi glielo ho preso poi è stato richiesto perché lui comunque voleva almeno un libro di questo autore quindi ho pensato di prendergliene due e siamo a posto poi per la zia del mio compagno ho preso un libro che lei voleva che è l'ultimo di Elena Ferrante la vita bugiarda degli adulti non so assolutamente di che cosa parli questo libro perché non me ne sono interessata granché della trama nel senso che lei voleva quello io sono andata a comprare quello ma sinceramente non vi so dire di cosa parla perché non ho ancora avuto il tempo nemmeno di guardare la quarta di copertina di questo libro quindi vabbè non so penso sia un romanzo comunque e in ogni caso è una cosa che lei voleva poi un'altra cosa che ho preso è uno schiaccianoci ebbene sì anche per lei ho preso lo schiaccianoci ma questa volta classico ho fatto così perché quando sono andata a casa sua mi sono resa conto che il suo schiaccianoci era di quelli un po retro quelli molto piatti che è difficile poi andare ad utilizzare e quindi anche a lei come regalo scherzoso e ironico insieme al regalo ufficiale aggiungerò lo schiaccianoci quest'anno vado di schiaccianoci è così poi per mia cognata ho preso un libro mi hanno detto che lo voleva è l'ora del tè in liguria questo è un libro di ricette ma all'inizio c'è anche tutta la storia del tè la tradizione del tè le teiere le tazze quindi insomma è molto carino e siccome questo libro si intitola in questo modo io ho pensato di aggiungere anche per lei una di queste scatole bellissime che vendevano da lidl con il tè questo è all'arancia comunque è molto carina la confezione e l'aggiungerò al libro perché insomma l'ora del tè in liguria con la scatolina di tè secondo me è perfetto per una collega del mio compagno faremo una confezione di cioccolatini quindi un sacchettino di cioccolatini misti e la tazzina da caffè questa qui con scritto merry christmas poi altre due tazzine da caffè rosse questa volta con la scritta merry christmas e il cucchiaino le regalerò a mia suocera perché le ho preso la caffettiera e quindi le tazzine da caffè secondo me ci stanno benissimo anche perché completano un pochino il regalo ovviamente queste sono utilizzabili solo per natale però comunque sono carine secondo me poi per un'amica ho preso questa pallina di bottega verde da appendere all'albero di natale che ha dentro la crema mani e il balsamo labbra della linea magia delle stelle qui c'è la crema mani piccolina in mini size e poi c'è il balsamo labbra è molto carina perché poi comunque la pallina fatta così bianca con questi colori un po sul dorato può essere appesa all'albero di natale ed è comunque sicuramente un bel regalo poi sempre per un'amica ho deciso di prendere due saponette di bottega verde che hanno un messaggio per un anno felice con la pigna e poi per feste brillanti mi piacevano più che altro perché c'è il messaggio scritto sopra quindi sono abbastanza carine ed è un regalo ovviamente simbolico un pensierino una cosa così però insomma almeno mandano il messaggio ti ho pensato per i cugini del mio compagno ho preso un salvadanaio adesso ve lo faccio vedere ma vi facevo vedere anche la scatola che secondo me è bellissima ed è un salvadanaio che va ad arredare la casa perché al di là dell'utilità del salvadanaio questo è un oggetto d'arredamento e c'è un gatto disegnato sopra mi piaceva veramente tantissimo sia come colori e proprio come forma loro adorano i gatti quindi comunque un regalo pensato cioè non l'ho preso a caso ho pensato che cosa poteva piacergli e secondo me è veramente stupendo ho visto che su amazon vendono ad esempio mi sembra il dinosauro sempre di questa linea poi forse c'era un'altra tipologia di gatto però veramente sono stupendi secondo me questi poi regalerò questa confezione di frutta di marzapane fatta così a una conoscente di mia mamma perché è una persona che mi aveva regalato quest'estate una camicetta di sangallo era una cosa molto carina praticamente non mi conosce e ha voluto farmi questo regalo quindi è stata molto generosa molto carina e io per ricambiare per natale le regalerò questa confezione di frutta fatta così più che altro perché questa frutta è abbastanza decorativa e magari se la mangerà insieme alla sua famiglia non lo so comunque un pensierino un pensierino così da poco ma intanto per ringraziarla del regalo che mi ha fatto poi per le colleghe del mio compagno abbiamo preso tre palline da appendere all'albero di natale che hanno all'interno il tè di natale sono molto carine non so se riuscite a vederle questa è bianca e rossa non posso aprirla perché rischio di rompere tutto e sarebbe un peccato e poi ce n'è un'altra sempre bianca e rossa poi invece c'è questa che è tutta sul bianco con questi motivi qua erano veramente belle a me hanno colpito subito quando l'ho vista e quindi abbiamo deciso di prendere queste perché sono un pensierino carino comunque poi ovviamente andrò a fare tutte le mie decorazioni particolari andrò ad aggiungere questi regalini qua insieme ad esempio questo gnomo però ancora non ho deciso dove lo aggiungerò e per chi quindi insomma quelle sono cose in più questi più o meno sono tutti i regali di natale che io farò ad amici e parenti fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più di tutte queste cose perché sono curiosa io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme